In questo momento lo Stato non ci tutela con una legge specifica contro l'omofobia. Era stata proposta una legge, la legge è ancora ferma in Senato e non se n'è più parlato. Noi chiediamo che venga ripresa in discussione una legge che ci difenda. La legge Reale Mancino protegge i casi di discriminazione con un aggravante. Non è inserito in questa legge l'aggravante per atti violenti, per orientamento sessuale e identità di genere. Chiediamo che sia fatto anche questo. Io continuo a pensare che Genova sia una città inclusiva, accogliente, aperta e soprattutto che sa confrontarsi con le diversità. Però devo anche dire che in meno di un anno ci sono stati tre episodi di aggressioni gravi contro persone omosessuali o presunte omosessuali. Questo ci deve far riflettere, dobbiamo chiederci se l'inclusività di questa città è a 360 gradi o no. Se tutta la città è una città inclusiva o se ci sono delle sacche di omofobia o discriminazione. È fondamentale scoprirlo. Ci sono probabilmente delle zone della città in cui è più complicato. Claudio Tosi, presidente di Arcighei Genova, in seguito agli ultimi episodi di omofobia, auspica maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Io chiedo che le istituzioni siano attente, che cerchino di capire che cosa sta succedendo, che intervengano nei luoghi in cui è necessario, dalle scuole ai luoghi pubblici, innanzitutto cercando di capire cosa succede perché il primo problema è che non sappiamo esattamente questa città da che parte sta andando, evidentemente.